al Gavagnino Cini di Verona una Virtus Verona con tanti cambi cerca i tre punti per la salvezza matematica la Prostesta invece che ha cambiato allenatore in settimana Daniele Angelotti promosso come capo allenatore della prima squadra invece cerca punti per provare a rilanciarsi in zona salvezza e parte molto molto bene con le due punte davanti ovvero Tocci e Bruschi la prima occasione ce l'ha però l'inserimento di Maurizio dopo appena cinque minuti all'ottavo altra chance Salas la porta sul sinistro incrocia palla ribattuta e poi altra conclusione di Poli dalla terza quella di Tocci la parata centrale di Sibi decisivo già nel primo tempo poi la risposta dalla distanza calcio piazzato smanacciato da Del Frate che è anche fortunato nel colpire l'incrocio sempre prossesto in avanti nel primo quarto d'ora pala per Tocci in verticale con la diagonale col mancino ma troppo larga che termina sul fondo botte risposta nelle primi 25 minuti Amadio si inserisce con i tempi giusti e calcia Del Frate nuovamente in bagger riesce a liberare i propri 16 metri il cross di Maurizio dentro l'area per la conclusione di sala ribattuta e poi dall'altra parte altra chance per Gattoni il capitano che sfiora due volte il gol del vantaggio aumentano le occasioni per la processa nel corso del primo tempo il colpo di testa tentato qua da Setter non riesce invece ad indirizzare il pallone verso la porta nel finale di primo tempo poi Amadio sfonda sempre dalla destra mette un altro cross per Setter che calcia ribattuto e poi il mancino di Setter che sbatte addosso a Del Frate ottima uscita nel secondo tempo poi la grande partenza della processa Toninelli recupera il pallone la mette dentro per Tocci che gira col mancino nuovamente a lato Marianucci alimenta il pallone all'indietro Giorgeschi apre a sinistra sala pensa al cross la palla al limite per Bruschi che carica il destro Sibi in calcio d'angolo altro tentativo sempre inizio ripresa con Poli che non riesce a trovare il passo giusto per calciare in porta al minuto 72 entra Mattia Florio cresciuto con la maglia dell'Elas Verona al minuto 72 la palla arriva in area per il colpo di testa e la battuta di Mattia Florio inizia la sua super serata primo gol tra i professionisti per lui che è di proprietà dell'Elas Verona segna Verona un gol pesantissimo per la sua Prosesto che adesso torna a sperare in zona salvezza gol pesantissimo di Florio la risposta di Sibi il più pericoloso della Virtus Verona nel finale di partita poi da un contropiede Florio è pronto a gestirlo punta la porta vuole rientrare su destro ne salta due calcia col destro e trova la doppietta non aveva mai segnato nel professionismo ne fa due in una sera e si regala una serata da sogno Mattia Florio doppietta da tre punti la Prosesto che non vinceva addirittura dal diciotto di novembre torna a vincere dopo quattordici gare senza successo e si rilancia in zona salvezza grazie a tutti